Sono stanco, non ve lo nascondo, sono stanco perché è stata una settimana difficile e anche oggi è stata una giornata difficile ed è proprio per questo che sono qui a farvi questo contenuto per raccontarvi che sarebbe stato ancora peggio se non avessi avuto con me una fotocamera mirrorless. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e mi occupo di fotografia e ogni tanto anche di video. In particolare questa settimana ho avuto una giornata veramente massacrante in uno studio fotografico alle porte di Milano per realizzare un lavoro dei più impegnativi che mi siano mai capitati. È proprio in occasione di questo lavoro che ho avuto l'occasione di utilizzare le mie fotocamere reflex affiancate a delle fotocamere mirrorless alcune mie, altre che avevo noleggiato, per avere un parcomacchine adatto a portare a termine il lavoro che mi era stato richiesto. Questa recente esperienza mi ha ispirato il video di oggi in cui vado a raccontarvi quali sono secondo me i 5 motivi per cui vale la pena avere una mirrorless, non dico passare a una mirrorless completamente, quindi abbandonare il vecchio mondo, però avere una mirrorless sicuramente vale la pena. Prima di cominciare come sempre vi ricordo che se questo tipo di argomenti vi interessano il bottone iscriviti è qui sotto in maniera tale che potrete rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che vado via via pubblicando per voi. Inoltre vi ricordo che spesso e volentieri rispondo a dei commenti con dei video verticali, quindi dei contenuti brevi. Se vi iscrivete non rischiate di perdervi la risposta al vostro commento. Ma cominciamo con la nostra classifica. Primo motivo ovviamente l'autofocus. Non ce n'è, l'autofocus delle mirrorless performa molto bene e ci permette di fare delle cose che prima non è che non riuscissimo a fare, ci riuscivamo lo stesso. Magari lato amatore un po' meno, l'amatore con una fotocamera entry level che cercava di fotografare il nipotino che gattona in salotto con la luce di una candela non riusciva a portarsi a casa quella foto perché la messa a fuoco non ce la faceva stare dietro a una scena come quella. Il professionista ce l'avrebbe fatta comunque perché avrebbe avuto una strumentazione, seppur reflex, superiore e avrebbe saputo come comportarsi in un caso come quello per riuscire a beccare la scena anche se l'autofocus della camera non ce la faceva. Oggi con le mirrorless è molto probabile che anche un amatore, anche una persona alle prime armi riesca comunque a portarsi a casa quello scatto che una volta non sarebbe mai riuscito a catturare. In ambito professionale io vi dico che non avevo tutto questo bisogno della mirrorless perché tutto sommato ci permette di fare delle cose che si sono sempre fatte. Si è sempre fatta la fotografia sportiva mettendo a fuoco il motociclista che va veloce, si è sempre fatta la fotografia naturalistica beccando il pettirosso, il colibri a mezz'aria, si sono sempre fatte queste cose. Tuttavia la mirrorless ci permette da un lato di fare queste cose facendo meno fatica e questa è la parte che a me interessa perché io riuscivo anche prima a fare queste cose ma la mirrorless mi permette di fare meno fatica, quindi torno a casa meno stanco, sono più rilassato perché la macchina si è caricata di parte del lavoro al posto mio. La seconda cosa è che una mirrorless comunque facendoci fare meno fatica ci permette anche di realizzare più scatti corretti, più scatti utilizzabili perché è vero che la fotografia si è sempre fatta anche in condizioni difficili, è vero che il colibri in volo lo beccavi anche prima, però magari gli facevi 20 foto e ne venivano buone 5. Oggi con la mirrorless tu fai 20 foto e magari ne vengono buone 17. Quindi questo significa tante possibilità in più anche per i professionisti, sicuramente uno strumento che molte volte risulta più accurato. Il secondo motivo per cui secondo me è assolutamente vantaggioso un sistema mirrorless è la compatibilità. Ora vi parlo in particolare della mia esperienza, quindi vi parlo di Canon. Magari esistono brand che non hanno questo tipo di retrocompatibilità, però una fotocamera mirrorless come quella che sto usando io in questo momento per filmare è compatibile con le ottiche vecchie. Quindi hanno pensato di fare questo gradino morbido, non è che bisogna cambiare completamente sistema dall'oggi al domani, si può fare un passaggio graduale e le ottiche che abbiamo sempre utilizzato funzionano ancora sul nostro sistema mediante un anello adattatore. Quindi sulla mirrorless io in realtà ho più possibilità per quanto riguarda le lenti di quante non ne abbia con la reflex, perché la reflex accetta solamente le lenti fatte apposta per reflex, mentre la mirrorless funziona sia con le ottiche mirrorless sia con le vecchie ottiche reflex. Andiamo sul terzo motivo e c'è la qualità d'immagine. Ora questo è un argomento un po' controverso e io sono stato il primo a dire che la mirrorless non aggiungeva chissà cosa a un panorama fotografico che era già fondamentalmente saturo, quindi le fotocamere reflex in particolare, gli ultimi modelli usciti perché la reflex di fatto è stinta, gli ultimi modelli reflex che sono stati rilasciati sul mercato hanno una qualità d'immagine che è difficile da battere perché sostanzialmente avevano raggiunto la perfezione, catturavano quello che dovevano catturare, precisione, contrasto, nitidezza, erano dei sistemi a loro modo perfetti per quella che era la tecnologia all'epoca. Quindi mi rendo conto che è veramente difficile dare qualcosa di più dal punto di vista della qualità d'immagine, a meno di non andare su una Leica o su una Hasselblad, però lì partono delle cifre molto ma molto diverse, ve l'assicuro. Ecco però che il sistema mirrorless qualcosina in più ci sta cominciando a dare perché effettivamente i sistemi tecnologici progrediscono, i sensori sono nuovi, i processori sono nuovi, insomma sarebbe inverosimile che il sistema producesse esattamente le stesse immagini che venivano prodotte cinque anni fa. I sistemi mirrorless qualcosina di nuovo ce l'hanno. Ora sotto questo punto di vista mi rendo conto che è un po' una vittoria di pirro, nel senso che nel momento in cui le reflex hanno cessato di esistere è evidente che queste migliorie tecnologiche sono state apportate solamente sulle mirrorless. Queste sono cose che avrebbero potuto tranquillamente essere applicate anche ai sensori reflex se solo i brand non fossero stati così miopi da cessare la produzione immediatamente, quindi poteva succedere anche su reflex e potevamo essere tutti quanti contenti di continuare a utilizzare anche quel sistema con le migliorie che sarebbero state apportate in ogni caso, ma invece queste migliorie le vediamo solamente sui sistemi mirrorless, quindi ultimamente le fotocamere mirrorless stanno avanzando di qualità rispetto alle reflex che d'altronde sono un sistema morto. Questo deve farci riflettere perché se da un lato la tecnologia progredisce sulle mirrorless e quindi avremo macchine sempre più performanti, un giorno saranno molto più performanti delle reflex è inevitabile, dall'altro lato puntare sulla mirrorless è anche l'unico modo per andare avanti perché altrimenti rimaniamo bloccati su un sistema morto per cui un bel momento non troveremo più le componenti di ricambio, non troveremo più accessori, cominceremo a fare fatica a lavorare in mondo reflex perché è un mondo che è stato dichiarato, prima o poi cesserà completamente la produzione e non troveremo più le componenti, quindi se ci si rompe qualcosa non potremo sostituirlo. Veniamo al quarto punto che per me è anche più importante, ovvero la mirrorless tende a semplificare alcune fasi del lavoro. Ora io sono stato il primo, non il primo in Italia, non voglio prendermi meriti che non ho, sono stato uno dei tanti a dire che questo fatto di semplificare i processi toglie il piacere dello scatto. Continuo a pensarlo nel senso che la fotografia nasce come alchimia e secondo me in gran misura lo dovrebbe rimanere, nel senso che è il processo più che il risultato, è il viaggio più che la meta. Quindi questa è una cosa che sicuramente con la mirrorless viene un po' meno perché semplificando i processi, facendo delle cose da sola, ti toglie il piacere di quello che stai facendo, ti consegna solamente il risultato finito. Mi rendo conto che è quello che vuole il mercato perché il mercato non è fatto da fotografi appassionati, ma è fatto prevalentemente di persone che vogliono la foto del loro cane o influencer che devono mettere la foto per prendersi i loro 25 mila euro perché hanno fatto la foto per quel tal brand e quindi la velocità è tutto in entrambi i casi e a queste due tipologie di persone non interessa niente del viaggio, del processo fotografico, a loro interessa il risultato. Pum, fotografia presa e messa lì. Quindi mi rendo conto che questo è quello che il mercato chiede. Quello che c'è di buono nella mirrorless in questo senso è che semplificando alcuni processi ti mette magari in grado di lavorare più velocemente o di lavorare su due cose contemporaneamente dovendoti preoccupare di meno dei singoli aspetti che normalmente avresti dovuto curare. Me ne sono reso conto in ambito professionale proprio questa settimana, quella in cui registro il video, non quella in cui esce, perché trovandomi a dover realizzare un lavoro, ve l'assicuro, molto molto complesso, mi sono reso conto di come lavorare con la mirrorless mi dava un vantaggio in termini di velocità, rapidità, reattività contro la reflex che invece questo vantaggio non me lo dava e quindi usando le affiancate mi sono proprio reso conto di come con la mirrorless lavoravo più veloce. Dovevo preoccuparmi di meno di certe cose che normalmente curo sulla reflex perché la mirrorless se ne prendeva cura da sola e per la miseria se se ne prendeva cura bene. Io ho controllato le prime volte che fosse tutto corretto, dopodiché ho lasciato fare la macchina e non ha sbagliato un colpo. Quindi da questo punto di vista devo dire veramente bravi quelli di Canon perché da questo punto di vista le fotocamere mirrorless di ultima generazione sono una cannonata pazzesca. Veniamo al quinto punto, questo lo so, interessa a pochi e io stesso non sono completamente a favore delle ibride, però ragazzi guardiamo in faccia la realtà, le fotocamere mirrorless sono delle ibride perfette. Io ho cominciato a lavorare con le ibride magari un pochino con la 80d che considero una ibrida perché io l'ho comprata per fare video. All'epoca il mondo mirrorless non era quello di adesso quindi ho puntato su qualcosa che conoscevo. Ho preso una 80d che è una reflex, l'ho presa per fare esclusivamente video. Adesso la uso un po' anche per foto e quindi la considero una ibrida quasi perfetta. Quasi però perché è una fotocamera che mi dà dei grandissimi problemi con la messa a fuoco ed è una fotocamera che non mi dà il 4k per esempio. Passando al sistema mirrorless io ho trovato tutto quello che mi serviva in una macchina come R7 per esempio e sarebbe esattamente la stessa cosa anche con R6 che ho avuto il piacere di provare di recente per non parlare di R5 che fa spavento. R5 è veramente paurosa ma rimaniamo su delle cose da terrestri. R7 e R6 sono delle macchine che a livello foto e video mi danno veramente tutto quello di cui ho bisogno perché ho la risoluzione che mi serve, ho la gamma dinamica che mi serve, hanno una gamma dinamica che è migliore rispetto a quella di molte reflex quindi mi dà veramente tutto quello che mi serve. La messa a fuoco non ne parliamo, sono mostruose sia una sia l'altra per cui il fatto di andare in giro con una fotocamera mirrorless mi fa stare molto tranquillo sul fatto che posso veramente fare sia foto sia video con la stessa macchina. Poi non lo faccio perché comunque penso che voglio separare i due processi e mi preoccupa la durata della batteria quindi finisce che non lo faccio però potrei. Arriviamo a un ultimo punto che è un punto bonus perché è fuori elenco. Una cosa che sto scoprendo in questi giorni proprio utilizzando le mirrorless per fare questi lavori complicati di cui vi ho accennato mi sono reso conto di come utilizzare una reflex è una strada un po' a senso unico nel senso che la reflex è quella. Io la conosco molto bene, so come funziona, so cosa può fare, so cosa non può fare. La mirrorless volendo offre delle possibilità in più è un sentiero un po' più aperto sia perché ogni volta che esce un modello nuovo ha qualcosina in più e quindi ci permette magari di fare cose in più rispetto a prima sia perché e questa è la cosa che mi piace veramente molto delle mirrorless, le mirrorless ci permettono di utilizzare queste nuove tecnologie che vengono impiantate all'interno del processore eccetera eccetera ci sono magari dei bottoni nuovi, delle funzionalità nuove come il control ring sulle lenti. La mirrorless ci permette di usare tutte queste cose ma non ce le ha ancora rese obbligatorie per cui se con la reflex abbiamo un sistema che è in grado di fare quello e solo quello con la mirrorless abbiamo un sistema che è in grado di fare le cose nuove ma anche le cose vecchie. Questa è la cosa che sto veramente apprezzando di questo sistema che riesco a impostare la macchina per essere veloce e reattiva per occuparsi di tutta una serie di procedimenti. La messa a fuoco in questo momento è automatica, ho la messa a fuoco sull'occhio e ci pensa la macchina da sola ma io posso anche spegnerle queste cose e posso tornare a lavorare vecchia maniera con la mirrorless. Molte cose non saranno più le stesse, l'oculare è digitale, sono il primo a dire che non mi piace per niente guardare nell'oculare digitale però funziona quindi non mi piace ma me lo faccio andare bene perché funziona e anche bene. L'anello di messa a fuoco è digitale e non mi piace per niente, non mi piace il ritardo, il delay che c'è fra quando giro l'anello di messa a fuoco quando la macchina esegue il comando perché è elettronico, è motorizzato, non mi piace per niente però funziona, riesco a fare il lavoro anche se è motorizzato e per contro però ho ancora la possibilità di mettere a fuoco a mano e durante il lavoro che ho fatto questa settimana il cliente mi ha chiesto una carrellata con una messa a fuoco e mi sono reso conto di una cosa bellissima che su mirrorless io posso vedere a display a che distanza sto mettendo a fuoco e quindi posso andare a mettere a fuoco con estrema precisione segnandomi mentalmente un punto di inizio e un punto di fine della mia escursione e questo veramente non ha prezzo perché quindi io guardando a display e facendo la mia composizione posso dirgli con precisione dove deve cominciare e dove deve finire. Una cosa che prima facevo fatica a fare dovevo guardare sul barilotto della lente per vedere la distanza a cui stavo mettendo a fuoco. Tutte queste integrazioni mi fanno veramente pensare che il sistema mirrorless offra tante cose buone a fronte di altre cose che sono un po' meno buone ci metto dentro sicuramente i prezzi che non mi piacciono per niente ci metto dentro una qualità di immagine che secondo me deve ancora fare qualche passettino perché comunque tutta questa gamma dinamica in più che hanno messo su questi nuovi sensori tutta questa questa qualità questi megapixel in più che hanno messo su questi nuovi sensori vengono con un costo vengono magari con un po' più di rumore digitale vengono magari con un'immagine che a me sembra artefatta è più digitalona rispetto a prima le reflex erano digitali però comunque avevano un'immagine secondo me più analogica in queste immagini da mirrorless io vedo proprio un po' di digitalone le vedo meno naturali quindi è una cosa su cui secondo me si può ancora lavorare però rendono bene queste sono cose che vedo io che vedono i fissati e gli appassionati la gente normale non le vede queste cose quindi la gente normale percepisce solamente i vantaggi tecnologici la fotocamera oggi è più facile da usare rispetto a quanto non fosse cinque anni fa questo a me va bene perché nel momento in cui ne fai un utilizzo professionale professionista fa meno fatica nel momento in cui un amatore totale prende in mano una mirrorless comunque gli stessi lavori di un professionista non li fa comunque questo perché perché è uno scarpone no semplicemente perché non è il suo lavoro e quindi non ragiona per ottenere un risultato di un certo tipo non ci pensa neanche che potrebbe usare la macchina per ottenere un risultato di un certo tipo quindi secondo me la mirrorless non scava la fossa ai professionisti può essere però un valido aiuto sia per gli amatori sia per chi come me lo fa di mestiere benissimo amici ma questi erano i miei motivi per cui vale la pena avere una mirrorless adesso vi chiedo fatemi sapere nei commenti voi come la pensate so che tra di voi ci sono molti nostalgici della reflex anche a me mancano tantissimo ma non me la faccio mancare perché quelle in mio possesso rimangono con me non ho nessuna intenzione di liberarmene quindi quelle me le tengo a fianco delle mirrorless lo sto già facendo man mano a fianco delle mirrorless da poter utilizzare per determinati tipi di lavori se invece amate follemente le mirrorless e la reflex vi sembra una cosa da dinosauri fatemelo sapere nei commenti e spiegateci anche perché è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video